Il primo premio da 200.000 euro dell'IPT di Novagoriz è andato a Moussa Fakhanit, che si aggiudica anche il rispettivo titolo di campione del torneo di poker organizzato da PokerStars. Il final table del main event dell'IPT Novagoriz 2011 è iniziato già con Kanit in netto vantaggio sui suoi avversari. Grazie Grazie Grazie